Bentornati a Imprese Quotidiane. Oggi ci troviamo in Viale Dolomiti a Ponte nelle Alpi all'interno di Servizio Vista in compagnia di Mauro. Ciao Mauro. Ciao. E da quanto tempo hai questo negozio e come sta andando la tua attività? Dunque, io ho questo negozio dal 1990, l'ho rilevato da una precedente attività che risaliva ai primi anni del 70 e fino ad oggi lo sto portando avanti per una certa passione. E cos'è che contraddistingue la ricerca dei tuoi clienti? Cos'è che chiedono soprattutto oggi? Fondamentalmente richiedono un prodotto che sia gradevole dal punto di vista estetico e soprattutto che abbia una certa funzionalità, una certa praticità. In pratica non si bada più come qualche anno fa esclusivamente all'estetica, ma si bada anche un poco alla funzionalità, alla praticità dell'occhiale. I prodotti particolari che io vedo diciamo stanno andando abbastanza come tendenza, sono dei prodotti di un certo tipo, soprattutto si bada alla leggerezza e la robustezza dei materiali. Questo materiale in particolare si chiama Ultem, è un materiale molto molto leggero, contemporaneamente ha una buona resistenza, come vedi è flessibile e può diciamo in linea di massima essere assemblato con lenti di quasi tutte le tipologie, quindi possiamo andare anche a mettere una lente piuttosto spessa, senza far risentire il tutto di un'anti esteticità diciamo, l'occhiale comunque si presenta gradevole. Dimmi anche quali sono i servizi ASCOM che ti aiutano a portare avanti la tua attività? Beh, per esempio all'interno dell'ASCOM io ritrovo spesso e volentieri la nostra associazione che è quella di Federotica e comunque ho sempre un ottimo supporto per le mie esigenze, per quelle che sono le nostre problematiche quotidiane. Bene, allora ringraziamo Mauro di Servizio Vista in Viale Dolomiti a Ponte nelle Alpi e ci vediamo alla prossima puntata di Imprese Quotidiane. Grazie a tutti!